Sarebbero state le continue pressioni dell'amministrazione comunale a causa delle dimissioni di Federico Zamboni, presidente di AEM Gestioni, pressioni che avrebbero avuto come scopo far saltare la commissione di vigilanza sul decommissioning dell'inceneritore di Cremona, che in effetti è saltata per mancanza del numero legale dei partecipanti. Ma sul caso la polemica era già montata dal momento che il presidente Ventura ne decise la convocazione per l'11 marzo, ben sapendo che non vi era la disponibilità degli attori principali, cioè del sindaco Galimberti, dell'assessore Alessia Manfredini e del presidente di AEM, Siboni. Probabilmente è stato detto che siccome mancavano tutti gli altri, probabilmente sarebbe stato meglio trovare una data in cui potessero esserci tutti. Mi sembra una cosa veramente un po' un teatro dell'assurdo questo, perché insomma chi convoca una commissione sapendo che coloro che vuole convocare non ci possono essere. E questa data viene partecipata solo di una settimana, cioè non si è detto ci rivediamo, non ne vogliamo parlare, ci rivediamo tra sei mesi. Abbiamo detto non l'11 marzo, il 18 marzo. Sulle accuse però che arrivano dall'opposizione, cioè sul fatto che l'amministrazione stia remando contro il decommissioning, come sembrerebbe dimostrato dalla fuga dei consiglieri Canale e Poli e dalle dichiarazioni di Zamboni, bisogna raccontare i fatti. Intanto la raccolta differenziata spinta già decisa per Cremona porterà un servizio alla cittadinanza più puntuale e anche una riduzione dei rifiuti da bruciare, con spese minori per il Comune nei confronti di AEM. In secondo luogo, ora anche LGH, di cui AEM gestioni e espressioni, ha riconosciuto che la potenza dell'inceneritore di via San Rocco può arrivare al massimo alle 65.000 tonnellate di rifiuti all'anno, ben lungi dai 120.000 richiesti dalla sblocca Italia e condivide quindi con il Comune la valutazione inviata al Governo sull'inadeguatezza dell'impianto ai fini dell'incenerimento dei rifiuti di tutta Italia. Ci sono direi due passi fondamentali. Il primo è questo che stabilisce comunque un tetto oltre il quale l'inceneritore non può andare e l'altro elemento fondamentale è che finalmente parte a Cremona con ritardo rispetto a tante altre realtà la differenziata porta a porta, la differenziata spinta. Questo inevitabilmente porta, come è comprensibile, a una riduzione dei rifiuti che andranno all'inceneritore. Si è cercato e si è ottenuto di aumentare di fatto aumentare il servizio con la differenziata porta a porta ma contenendo i costi, quantomeno non superando i costi che sono quelli degli anni precedenti, anche del 2014. Quindi è nelle cose peraltro che vi sia una progressiva riduzione di rifiuti all'inceneritore e quindi si vada verso la graduale dismissione fino allo spegnimento dell'inceneritore. E poi ha aperto il tavolo in regione per il decommissioning. Forse le pressioni a cui si riferisce Zamboni sono allora di altra natura, magari proprio legate all'iter in corso per lo spegnimento dell'inceneritore. Zamboni sia chiaro, cioè se ha avuto delle pressioni per una questione o per l'altra, le dichiari apertamente e se ha le prove di queste pressioni, le documenti, altrimenti le cose che dice sono anche piuttosto grave.